Stiamo sparsi, questa è la parola d'ordine. Da oggi, domani e domenica per il weekend dobbiamo stare sparsi, non possiamo stare tutti insieme. Ieri ho fatto un giro in viale con la bicicletta e ragazzi devo dire che ho visto delle scene che non mi sono piaciute per nulla. Gruppi di ragazzi insieme, amiche e amici tutti insieme, 10-12 persone, non va bene, non è questo il momento di stare tutti insieme, di fare la movida, di fare l'aperitivo in gruppo, eccetera. Questo è il momento per scegliere un amico, un'amica, uscire, andare a bere una cosa, fare una passeggiata, prendere un gelato, avremo tempo per tornare in compagnia ma non è questo il momento di farlo. Mi raccomando perché stiamo riaprendo gradualmente ma il virus si è indebolito e non è ancora sconfitto e non vorrei nelle prossime settimane dover richiudere di nuovo. Mi raccomando, teniamo botte e siamo sparsi.